Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Voglio iniziare leggendovi una dichiarazione. Allora, esiste una struttura parallela al potere ufficiale. È il partito dei PM, potentemente infiltrato nelle procure, in Parlamento, nel Governo, nei giornali e in TV. Ha una strategia autoritaria e finalità eversive. In Italia non c'era mai stato un rischio così alto per la democrazia. Ora, sarebbe facile pensare che ad aver detto queste cose sia Matteo Salvini oppure un esponente politico del centro-destra. No, questa dichiarazione è stata fatta da parte di un comunista, l'attuale direttore del riformista Piero Sansonetti. Ora, voi capite che quando in un paese a fare una simile dichiarazione è un esponente importante della sinistra italiana, io credo che noi davvero, davvero dobbiamo iniziare a riflettere. A riflettere su dove stiamo andando, dove ci stanno portando e qual è appunto il pericolo per la nostra democrazia. Tra l'altro, il grande problema che capite in Italia, che è un paese per ora ancora, per ora ancora un paese libero e democratico, si possono attaccare tutti, voglio dire, politicamente, giornalisti, opinionisti, e la gente giustamente fa molta fatica ad attaccare la magistratura. Perché? Perché purtroppo la magistratura ha dato esempio, anche in passato, da questo punto di vista di poter intervenire. E diventa pericoloso fare certe dichiarazioni, capite? Però è chiaro che siamo di fronte ad una situazione molto complicata, molto a rischio la democrazia in questo paese. Ora, tutto parte chiaramente da un'altra indagine da parte di un PM siciliano nei confronti di Matteo Salvini. Non bastava l'indagine sulla nave Gregoretti, ora abbiamo anche un'indagine sull'Open Arms. Quindi, vedete, sempre più si sta cercando di attaccare e, diciamocelo chiaramente, di eliminare un avversario politico da parte di una magistratura politicizzata. Ora, io ho letto delle proposte a livello di iniziative. C'è l'iniziativa del 16 febbraio da parte della Lega, ci sono altre iniziative in varie città italiane e la maggior parte di queste anche per chiedere le elezioni. Qualcuno addirittura vorrebbe andare dentro il Parlamento, fare delle azioni ancora più aggressive. Ora, vedete, io ho un mio convincimento. Quando tu vai a lottare per un qualcosa, a chiedere un qualcosa, tu devi avere anche, sia costituzionalmente che a livello di logica delle possibilità di portare a casa un risultato. Ora, l'abbiamo ripetuto tantissime volte. Potrà non piacere, non piace neppure a me, ma dal punto di vista costituzionale questo governo ha tutto il diritto di essere in carica. Quindi è inutile andare in piazza a chiedere elezioni o fare. Per carità si può fare, ci mancherebbe altro. E forse si deve anche fare. Però bisogna essere coscienti che, insomma, la possibilità concretamente di portare a casa questo risultato sono minime. Io credo che sia molto più importante, invece, andare a chiedere, a battersi per qualcosa che, appunto, è palesemente sbagliato, è palesemente, diciamo, grave, come nel caso della magistratura che fa politica per la nostra democrazia. Questo sì che, secondo me, bisogna fare. Andare davanti ai palazzi di giustizia, attaccare in maniera civile sempre, perché io non sono mai per usare la violenza, però attaccare duramente questi magistrati che continuano a fare politica. Questo sì, con delle indagini folli, perché è una follia, non solo perché lo dico io, perché lo dicono tanti magistrati e che magari non sono politicizzati e soprattutto non sono di sinistra, semplicemente perché l'allora ministro dell'interno ha fatto semplicemente il suo dovere, quello di proteggere i confini nazionali. E questa è una scelta che aspettava a lui e al governo, chiaramente il governo che continua, per nome di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, a lavarsi nelle mani. E chiaramente sappiamo che invece così non può essere, perché anche qui ci viene in soccorso l'articolo 91 della Costituzione per quanto riguarda i doveri e i poteri, in particolare del primo ministro del nostro Paese. L'altra cosa sulla quale io finalmente andrei in piazza, io ho aspettato per un po' di tempo che l'organo dei giornalisti prendesse una decisione su quel famoso titolo della Repubblica, cancellare Salvini. Ma voi avete più sentito qualcosa? Sta andando nel dimenticatoio come la maggior parte di queste cose. Noi invece dobbiamo andare, secondo il mio punto di vista, davanti all'ordine dei giornalisti con un'azione molto dura che non riguarda solamente questo titolo, riguarda comportamenti di giornalisti come Gad Lerner, come Fabio Sanfilippo, come la Gruber, come Giovanni Floris, come Formigli, o altri come la Fusani, la Merice. Potrei fare un elenco lunghissimo di giornalisti che più che fare cronaca e raccontarci i fatti a 360 gradi cercano unicamente di attaccare una persona, Matteo Salvini e il centro-destra, e anche loro fanno esclusivamente politica. Talvolta usando un linguaggio estremamente aggressivo è quello sì un linguaggio che fomenta l'odio. Spesso è il contrario di quello che loro affermano. Il loro linguaggio è un linguaggio che fomenta l'odio, non quello del centro-destra e soprattutto non quello dei giornalisti, dei media di centro-destra. Su questo sì che assolutamente sono convinto sono molto molto più corretti che non quelli di sinistra. È su questo che noi dobbiamo batterci, è su questo che noi dobbiamo intervenire, è su questo che noi dobbiamo scendere in piazza, contro questo tipo di magistratura, contro questo tipo di stampa. Su queste due cose noi dobbiamo unirci e scendere in piazza. Per carità va anche bene chiedere le lezioni, però ripeto, la possibilità di ottenere questo risultato è minimo. Invece sugli altri due aspetti, perché è in gioco la democrazia, noi dobbiamo intervenire. Io tra l'altro stamane vi avevo preannunciato un video riguardante una provocazione che volevo lanciare nei confronti delle Sardine e di Matteo Santori. Sicuramente lo farò domani, non perdetevi quel video, però oggi mi sembrava più importante parlare di questo, proprio perché mi è venuto sotto mano questa dichiarazione da parte di Piero Sanzonetti, che ritengo molto molto importante e che ci deve far rizzare le antenne per quanto riguarda la democrazia nel nostro paese. Con questo io vi lascio, vi ricordo sempre per chi non l'avesse ancora fatto di iscriversi al mio canale e vi auguro un buon pomeriggio.